Come si lavora? L'importante è di lavorare con le recensioni, l'importante è di far aprire la recensione al paziente. Tutti pensano che la recensione è un favore di cifatte. In realtà la recensione è una tutela per il malatto, è un diario di porto. Vi racconto via aggiornamento, giorno 180, che è successo questo e uno si sente già più tranquillo. Ed è il problema questo di curarsi all'estero, abbattere il muro della diffidenza. Dai uno strumento per cui uno possa scrivere pubblicamente quello che sta succedendo. Non sembra, ma prima di tutto serve sicurezza psicologica. Per quello sul gruppo appena uno entra, parlate, 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 fate gruppo, fate amicizia. Un percorso psicologico in due, in tre, in un gruppo d'amici, poi ci si rivede al secondo viaggio. E' un bel viaggio quello che stiamo facendo. Da poco l'ha scritto un paziente sul gruppo. Stiamo facendo un bel viaggio. Servono giovani per fare questo, giovani che sono motivati.